L'intervista a Maligna del padre Domenico Mondrone, aperto subito che stasera è per stomaci forti, la terza intervista è abbastanza forte come contenuto ed è anche la più famosa perché fu pubblicata in diversi luoghi, in diversi blog appunto per il suo contenuto abbastanza impegnativo. Dalle interviste con Maligna di padre Domenico Mondrone, terzo incontro la devastazione diabolica. Questa volta non si fece attendere molto, la sera dopo non mi era ancora messo a letto quando udivi per la camera dei rumori strani, erano passi pesanti, quasi dei tonfi che facevano vibrare il pavimento. Avvertita la presenza di lui agguantai il mio rosario e mi feci il segno della croce, invocando mentalmente la Madonna che avevo a fianco del letto e attesi. Sento che sei qui, ebbene in nome di collega che ti obbliga a venire e a rispondermi, dimmi subito, dopo il tuo grande peccato ti rendesti conto di ciò che avevi perduto per sempre? Che domanda stupida! Grazie, sei molto gentile. So bene che la mia intelligenza non può competere con la tua. Allora permettimi una domanda ancora più idiota. Ti sei mai pentito di quel peccato? pentimento. Scattò subito la risposta rabbiosa come un urlo di belva. Ma non sai che un attimo di pentimento sarebbe stato un atto di amore? E questo non è nemmeno concepibile in noi. Noi fummo immediatamente investiti da un odio immenso contro di lui, un odio implacabile, eterno. Ci troviamo avviluppati in una maledizione che è divenuta una nostra seconda natura. Avrei voluto concentrare tranquillamente la riflessione sulla disgrazia irreparabile di milioni di creature così eccelse, ma l'altro mi interruppe. Dopo averci espulsi dal suo paradiso, si è vendicato, destinando al nostro posto gli esseri più ributtanti, voi uomini, un impasto di spirito di sporca materia. Vi ha fatti oggetto del suo amore infinito. Voi, no, vanno indicando da voi l'amore che noi gli abbiamo rifiutato. L'amore per voi gli ha fatto commettere pazzie, perfino quella di umiliare il figlio nel ventre di una donna, ha l'ambizione di riempire con voi i posti lasciati vuoti da noi. Ma prima che riesca in questo, noi riempiremo di voi uomini il nostro inferno. La vendetta che non possiamo prenderci su di lui, la faremo su di voi. E qui è necessaria una prima doverosa pausa, soprattutto su questo ultimo punto. la vendetta che non possiamo prenderci su di lui, la faremo su di voi. Questo è un punto assolutamente centrale, focale e ce lo dobbiamo ricordare bene. Così come l'odio implacabile, eterno e immenso contro di lui, che poi disponda è odio contro di noi. Perché la causa del peccato originale degli angeli, nella prova angelica, se ci pensiamo bene, siamo stati noi. Quello che non è andato giù agli angeli ribelli è che il figlio è diventato uno di noi. E quindi, vedete qual è la sfida, lui vuole portarsi in paradiso a prendere i posti degli angeli ribelli. E il diavolo vuole indicarsi, dice, tu devi portare in paradiso, tu devi portare in paradiso, tu devi portarti all'inferno. E purtroppo lui non scherza. Bene, proseguo la lettura. questo è il tuo sogno, ma tra te e noi, sul ciglio del tuo abisso infernale, c'è Cristo crucifisso. Avrai con te quelli che si ostinano a stare con te, ma tutti gli altri, anche i peccatori, anche i poveri infedeli, ti saranno strappati come preda che non ti appartiene. Perché sono suoi, li ha pagati col prezzo del suo sangue. Non è certo che alla fine ne avrai più tu che lui. Ci fu una pausa piuttosto lunga. Ebbi la sensazione che volesse aggredirmi con un discorsone. Infatti, passo subito all'attacco. Tu ti illudi se speri che potrà averne più di me. Ma non vedi cieco e stupido che sei, come oggi sto mobilitando tutto per la vostra rovina? Non vedi che il suo regno si sgretola e il mio si allarga giorno per giorno sulle rovine del suo. Ricordiamo il contesto di questi scritti e gli anni di questi scritti. Questo è stato edito nel 1992, ma si tratta di uno scritto concepito negli anni 70, 74, 50 anni fa. E già 50 anni fa, adesso sentiremo lo show che fa il diavolo raccontando le sue vittorie. Non vedi che il suo regno si sgretola e il mio si allarga di giorno in giorno sulle rovine del suo? Prova a fare un bilancio tra i suoi seguaci miei, tra quelli che credono nelle sue verità e quelli che seguono le mie dottrine, tra quelli che osservano la sua legge e quelli che abbracciano la mia. Adesso ascoltiamo bene, pensa soltanto al progresso che sto facendo per mezzo dell'ateismo militante, che è il rifiuto totale di lui. Negli anni 70 ricorderemo che era ancora un grosso problema. Ancora poco tempo e tutto il mondo cadrà in adorazione dinanzi a me. Sarà completamente mio. Ecco. Poi questo è ancora un problema, il secondo. L'ateismo militante adesso si è un po' fermato, ma il secondo no. Pensa alle devastazioni che sto apportando in mezzo a voi, servendomi principalmente dei suoi ministri. ho scatenato nel suo greggio uno spirito di confusione e di rivolta che mai finora mi era riuscito di ottenere. Avete quel vostro pecoraio vestito di bianco che tutti i giorni chiacchiera, grita, blatera, ma chi lo ascolta? Io ho tutto il mondo che ascolta i miei messaggeri e li applaude e li segue. Ho tutto dalla mia parte. Ho le cattedre nelle scuole con le quali ho sconfitto la vostra filosofia. Ho con me la politica che vi disgrega. Ho l'odio di classe che vi dilacera. Ho gli interessi terreni, l'ideale di un paradiso in terra che vi accanisce gli uni contro gli altri. Vi ho messo in corpo una sete di denaro e di piaceri che vi fa impazzire e sta facendo di voi una cozzaglia di ladri e di assassini. Ho scatenato in mezzo a voi una sensualità che sta facendo dell'umanità una sterminata mandria di porci. Ho la droga che presto farà di voi una massa di miserabili larve di folli e di moribondi. Vi ho portati ad adottare il divorzio per sgretolare le vostre famiglie. Vi ho portati ad approvare l'aborto con cui faccio stragi di uomini prima che nascano. Tutto quello che può rovinarvi non lo lascio in tentato e ottengo ciò che voglio. Ingiustizia a tutti i livelli per tenervi in un continuo stato di esasperazione. Guerre a catena che devastano tutto e vi portano al macello come pecore. E insieme a questo la disperazione di non sapervi liberare dalle sciagure con le quali devo portarvi alla distruzione. Conosco fin dove arriva la stupidità di voi uomini e la sfrutto fino in fondo. Ecco, su quello di prima c'è poco da dire, ma su questo ci sarebbe da pensarsi una settimana. La stupidità di noi uomini, che è la vera responsabile della nostra rovina. Perché lui fa il suo lavoro. Ma se non fossimo stupidi, non credenti, eh? Attenzione, dopo viene di essere credenti. Ma innanzitutto se non fossimo stupidi, perché ci vuole da essere credenti per capire che la droga è letame, è sterco. Ci vuole da essere credenti per rendersi conto che una famiglia distrutta è una devastazione, quantomeno per i figli. Bisogna essere credenti. Bisogna essere credenti per capire che non si può ammazzare un essere umano che non si può difendere nel grembo della madre. Bisogna essere credenti. Ma io troppo non ho parole. Alla redenzione di quello che si è fatto ammazzare per voi bestie. Così ci chiama il diavolo e ce lo meritiamo. Ho sostituita quella di governanti massacratori e voi mi buttate a loro seguito come stupidissime pecore. Con le mie promesse di cose che non avrete mai sono riuscite ad accecarvi, a farvi perdere la testa, fino a portarvi facilmente dove voglio. Ricorda che io vi odio infinitamente, come odio lui che vi ha creati. Sì, bel guadagno vi ha fatto, mandando i figli a sprecare il sangue per la cosiddetta redenzione. Io vi odio, vi disprezzo. E con questo? Cosa intendi dire? Non basta? Posso continuare se credi? Con questo credi di poter cantare vittoria contro Dio? Tu saresti il grande vincitore e Dio il grande sconfitto? Non meglio che ti stai dando da fare, forse come non mai. Che bello tenendo seguaci più che in passato, ma nei tuoi disegni rimani un abilissimo pallone gonfiato. Ti ho già detto che la tua storia finirà come è cominciata. Allora avresti in un attimo un milione di seguaci, ma come finì il tuo grido di ribellione? Tu sei condannato per sempre, mentre Dio è lì, sul suo trono di gloria. Ancora ti illudi? Non hai capito nulla di quanto ti ho mostrato. No, l'illuso sei tu. Queste tue vanterie possono impressionare un uomo di poca fede, ma non chi crede fermamente che Dio è Dio e che tu sei un miserabile di belle, una sua creatura, che potrebbe distruggere con un soffio in un attimo solo, ma non lo farà, perché Dio sei un prezioso strumento della sua gloria. Hai potuto abbindolare milioni di uomini portandoli a non credere in Dio, ma tu sai che Egli esiste, che è il solo Onnipotente, che ha in mano il destino degli uomini e della storia. Hai voluto ingeggiare la guerra contro di Lui e ti sta lasciando riportare alcuni successi, anche momentaneamente spettacolari. Ma sebbene che il tuo potere è condizionato dalla sua Onnipotenza e che la vittoria finale appartiene a Lui solo. No, sarà mia invece. Bugiargo, tu stesso non lo credi, perché sei bene con chi hai a che fare. Ricorda la lezione del venerdì santo. Lavorasti bene quel giorno, per mezzo dei tuoi satelliti ti impadronesti di Gesù e riuscisti a farlo uccidere. Ma nella cecità del tuo odio non ti accorgesti che quella morte fu Lui che la volle e tu ne fossi uno strumento obbediente. Credevi di averlo liquidato per sempre e invece il vinto fosti tu. Tu lo vedresti risorgere al terzo giorno, vincitore della morte e del peccato, vincitore tuo e di tutto l'inferno. Il mistero pasquale non si risolse una volta per sempre, esso si rinnova lungo i secoli in una vita della Chiesa e delle anime, in una vicenda interrotta di lotte, di morte e di risurrezione. Ma il trionfo del regno di Dio cogiù non si annuncia clamorosamente, si annuncia e progredisce e resiste agli urti nel mistero divino del silenzio. I soliti vecchi pezzi di oratoria, ribatte il diavolo. Falso, tu sai che questa non è oratoria. La mattina che risorse Gesù non ebbe alcuna preoccupazione di vendicarsi dei suoi nemici, cioè dei tuoi galoppini. Nessuna voglia dominarli, come avrebbe potuto fare e come ognuno si sarebbe aspettato, con una dimostrazione fulgorante del suo trionfo sulla morte. Sarebbe potuto apparire dinanzi al sinedio, a Pilato, a Erode, a quanti lo emediarono e lo ridussero e lo visero a morte. Invece non volle prendersi questa soddisfazione, non si curò affatto dei suoi nemici. Non pensò minimamente a ristabilire dinanzi alla folla la reputazione che gli era stata tolta. Inaugurava il suo stile. Dava l'esempio di come si attua il suo trionfo su questa terra, di come procede la sua chiesa in mezzo agli uomini nel lunghi tempi. Un cammino faticoso, senza strepito, portato avanti nel silenzio. Coperta continuamente di ferite, circondata di martiri, costretta troppe volte a rifugiarsi nelle catacombe. Questa sarebbe stata la storia della chiesa. Ma la chiesa la conosceva prima di viverla perché tuttora era stato predetto. E sono proprio questi tuoi apparenti fallimenti a renderla più simile al suo Signore. Chiacchiere, 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 non vedi che ho in mani tutte le forze del male? Non vedi che le ho già tutte mobilitate contro il suo regno? La mia offensiva avanza ormai inarrestabile. Sì, ma fino a quando? Vuoi farmi credere che sei il padrone della situazione? Ti presenti come il Signore e il dominatore del mondo e sei appena l'esecutore dei disegni di lui. Tu collabori soltanto alla magnificenza della sua vittoria finale. Come tante volte in passato, così oggi la chiesa ha bisogno di essere purificata. E Dio che la ama infinitamente, la visita per purificarla. Le prove servono a questo. Egli non spianta la sua vigna, ma la pota. L'attuale situazione di disturbo che tu e i tuoi scagnozzi avete scatenato insieme al popolo di Dio. Serve a questo, a purificarlo. Gli attuali apparenti successi della tua opera di seduzione e di disordine servono a lui, ai suoi intenti. Alla fine si ritorcerà tutto contro di te e tu rimarrai ancora una volta scornato. L'improvviso girarsi dalle tendine, mentre l'aria tutto intorno era ferma, mi avvertì che l'altro se n'era andato. È molto interessante questa seconda parte e dobbiamo ricordare bene le parole con cui vedete qui il sacerdote lo ha ridotto al silenzio. Lui fa il gradasso, fa il gradasso sulla stupidità nostra, però c'è poco da fare il gradasso perché tutto questo va a finire indisfatta per lui. E dietro tutto questo c'è la mano provvidente di Dio. Per quanto certamente tutti sappiamo quanto siano dolorose certe situazioni oggi, non possiamo, non dobbiamo mai perdere l'orizzonte della fede. Questo è un tempo di grande purificazione, è un tempo di grande prova. E dobbiamo semplicemente essere all'altezza, essere pronti, lasciarci anche noi purificare dal Signore, lasciarci convertire veramente e non dubitare mai ricordando proprio il mistero della passione della morte di Gesù, che è stato rievocato. Quando gli aveva ammazzato Gesù Cristo pensava di aver vinto, ma non capiva nel suo odio che lui non aveva ammazzato nessuno, perché era Gesù che si era fatto ammazzare, perché lo voleva, altrimenti non l'avrebbe nemmeno potuto toccare. Adesso gli aveva scatenato contro la Chiesa, lo sappiamo bene. E purtroppo stiamo sotto assedio. E se si ripeterà nella Chiesa la storia della passione, non dimentichiamo che Gesù Cristo è morto veramente, veramente c'è stato un momento di silenzio in cui il diavolo era illuso di aver vinto lui. Va a finire così la storia che stiamo vivendo? Beh, ci sono dei buoni motivi per pensarlo, però questa non è l'ultima parola, questa è la penultima, non dobbiamo dimenticarlo mai, perché l'ultima è la mattina di Pasqua, e la mattina di Pasqua sarà l'ultima anche di questi tempi così duri e travagliati.